Per loro è arrivato il conto. Il personale della Polizia di Stato ha dato corso a ordini di esecuzione di pena emessi dalla Procura della Repubblica nei confronti di due trentenni pesaresi portandoli nel carcere di Villa Fastigi. Il primo uomo è un esponente della tifoseria organizzata della squadra di calcio della Vispesaro. È già noto alle forze dell'ordine ed è stato condannato a cinque anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate. I fatti risalgono al maggio del 2013 quando un gruppo di ragazzi, tra cui l'arrestato, aveva aggredito e malmenato utilizzando anche delle bottiglie rotte un avventore di un pub di Fano. Il malcapitato aveva riportato delle lesioni tanto gravi da doversi sottoporre ad un intervento chirurgico facciale. L'attività di indagine condotta dalla Polizia ha permesso di identificare tutti gli autori del pestaggio e di denunciarli. Al termine dei vari gradi di giudizio, da ultimo quello che si è tenuto il 7 dicembre scorso davanti alla Corte di Cassazione, è stato emesso un provvedimento di esecuzione della pena nei confronti del trentenne, nel frattempo condannato alla reclusione, nella quale si è aggiunta una seconda condanna definitiva a otto mesi per reati di droga. La stessa sera, il personale della squadra mobile della questura di Pesaro e Urbino ha rintracciato l'uomo e dopo avergli notificato il provvedimento, lo ha portato in carcere. Invece, il secondo personaggio, anche lui già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel marzo del 2020 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di una decina di dosi di eroina. La perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha permesso di rinvenire tre panetti di oppio del peso complessivo di 250 grammi, quantitativo piuttosto importante per la piazza pesarese. Per questo motivo, gli è stata contestata la fattispecie più grave prevista dalla legge. Condannato alla pena di quattro anni di reclusione, nel pomeriggio di ieri è stato rintracciato dei poliziotti e rinchiuso nella casa circondariale.